Benvenuti a Meister Factor! In questo video imparerete a utilizzare correttamente la nostra bobina per la pulizia dei tubi. Si consiglia di indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza. Per una gestione più semplice utilizzare ad esempio un secchio. E per prima cosa posizionate la bobina nel contenitore e rimuovete le fascette. Aprite la vite di bloccaggio dell'impugnatura e fate passare alla parte anteriore della bobina. Spingere ora la bobina nello scarico a mano. Non appena si avverte una certa resistenza, sollevate la maniglia di circa 15 cm sopra lo scarico. Quindi fissate la vite di bloccaggio. Ora ruotate la maniglia e allo stesso tempo spingete la bobina nello scarico. La rotazione fa sì che la bobina si avvolga intorno alla curva del tubo. Ripetete questo processo fino a quando la bobina si trova a diversi metri di profondità nello scarico. Per terminare l'applicazione estraete la bobina dal tubo a mano. Per rimuovere lo sporco e l'umidità dalla bobina si possono utilizzare dei tovaglioli di carta, non appena si porta a casa. Quindi rimuovete la maniglia e arrotolate nuovamente la bobina utilizzando un contenitore. Infine si consiglia di trattare la bobina con olio o antiruggine per evitare la corrosione. Noi del team di Meister Factor vi ringraziamo per la vostra fiducia.